quali sono le prime opinioni da parte dei telespettatori su come la figlia di valerio staffelli sta vestendo i panni di commentatrice social al grande fratello 2023 rebecca staffelli prende ufficialmente il posto di giulia salemi nella postazione dedicata ai social network il ruolo di commentatrice social è stato lanciato proprio attraverso l'amata ex gfina di cui molti telespettatori stasera sentono la mancanza ha vestito questi panni solo per un'edizione e la sua uscita di scena ha lasciato l'amaro in bocca ai suoi fan che avrebbero voluto continuare a vederla nello studio di canale 5 durante le puntate in diretta con la rivoluzione sulle reti mediaset nata dalle regole anti trash di pier silvio berlusconi giulia ha perso il suo ruolo al gf non si sa se effettivamente sia stata lei a lasciare questo posto per nuove esperienze o se sia stato deciso da pier silvio berlusconi di fare un cambiamento l'ipotesi più accreditata è la seconda vista la rivoluzione che sta avvenendo nel reality show come è possibile notare anche nella postazione degli opinionisti c'è un grande cambiamento in questa nuova edizione alfonso signorini si fa affiancare da una sola opinionista cesara buonamici ma non è lei la protagonista dei tanti commenti che stanno uscendo sui social network su questa prima puntata sotto la lente di ingrandimento c'è appunto rebecca staffelli molti telespettatori ritengono che addirittura somigli e abbia una voce simile a quella di giulia salemi sebbene stia svolgendo il ruolo nel migliore dei modi per una parte del pubblico è davvero difficile sostituire la fidanzata di pier paolo pretelli non solo secondo qualcuno la salemi nello studio del grande fratello non avrebbe ricevuto il numero di inquadrature che sta avendo invece rebecca in questo ruolo c'è anche chi fa invece presente giustamente che è troppo presto per dare un'opinione d'altronde la giovane figlia dello storico inviato di striscia la notizia valerio staffelli sta svolgendo questo ruolo abbastanza bene